Sono stati presi i presunti autori dal tentato omicidio a un 26enne milanese avvenuto nella serata del 29 agosto scorso in via Creta a Milano per questioni legate allo spaccio di droga. La persona, individuata come l'autore materiale del tentativo di omicidio, è stato però fermato a Margherita di Savoia a casa dei nonni. Complice e mandante invece sono stati fermati in appartamenti del quartiere Baggio di Milano. L'intervento della Polizia di Stato, subito dopo la sparatoria, aveva consentito attraverso le testimonianze dei residenti e l'analisi delle registrazioni dalle telecamere presenti sul luogo dell'agguato di ricostruire la dinamica dell'evento e successivamente di identificarne i tre presunti autori. In particolare quella sera, sotto il porticato del complesso abitativo di via Creta, gli arrestati avevano esploso diversi colpi di pistola all'indirizzo della vittima. L'uomo, portato in ospedale da un amico, era stato ricoverato in prognosi riservata. Il sopralluogo della Polizia scientifica aveva permesso di recuperare sulla scena del crimine un bossolo calibro 9,21, mentre una parte di proiettile dello stesso calibro veniva estratto dal fianco della vittima nel corso dell'intervento chirurgico. L'attività investigativa della squadra mobile milanese, supportata anche da intercettazioni telefoniche, ha consentito di accertare che due dei tre autori, quella notte, avevano pernottato in un hotel a Milano e il giorno successivo uno dei due, sospettato di essere proprio l'autore materiale del tentato omicidio, si era recato nella provincia Bat. Il loro monitoraggio, ininterrotto fino al momento dell'arresto, poi ha portato a scoprire che il movente del tentato omicidio era legato allo spaccio di sostanze stupefacenti in via Creta.